E allora, sempre nello spazio dedicato alle nostre chiacchierate domenicali, spesso lo dico che in questo spazio non c'è solo musica, non si parla solo di musica oppure di teatro o del mondo dello spettacolo in generale, ma si parla anche di altro, nel frattempo vedete che sto sistemando un pochino il tavolo della mia regia. Sì, parliamo di altro e abbiamo un ospite di una importanza a livello provinciale, non solo, poi capirete il perché. Qui si parla di argomenti molto molto delicati, interessanti, subito andiamo a presentare il nostro ospite, eccola qui con noi, c'è Cristina Laimo, Cristina benvenuta. Buongiorno a tutti. Buongiorno a te, intanto come stai Cristina? Bene, bene, abbastanza bene. Allora, allora, sì, in questo spazio penso che come sai sicuramente di solito lo dedichiamo alla musica, artisti emergenti e nonne. Questa volta, ecco vedi, questa volta invece lo dedichiamo ad altro perché praticamente è giusto parlare degli anziani in particolare, in questo caso, di come prendersene cura perché molto spesso, ok, c'è tanta gente come te e come tante altre associazioni di cui si prendono cura di loro, ma spesso è capitato, insomma, che certe situazioni che riguardano proprio, che ne so, case di cura per anziani, come è successo di recente anche nella nostra vicina Caltinissetta, lì, insomma, ci sono stati dei problemi. Però di questo magari ne parleremo, toccheremo questo argomento nel corso della nostra attirata. Allora, qui tu sei nelle vesti di Presidente Provinciale dell'ADA, che tu stesso adesso spieghi a chi ci segue di cosa si tratta. Con molto piacere, molti mi conoscono, ormai siamo presenti nel territorio da un po' di anni. L'ADA è un'associazione che si occupa appunto di anziani e non solo, voglio specificare. L'ADA è un'associazione che si occupa dei diritti degli anziani, però in toto. Quando io parlo in toto significa sia a livello burocratico, sociale e su tutti i punti di vista. L'ADA è cresciuta da anno a anno, infatti prima eravamo proprio presenti a livello locale, ora siamo anche a livello nazionale, anche con l'ADA. Stiamo crescendo anche a livello di progettualità, perché prima non eravamo neanche iscritti a un albo regionale, adesso siamo iscritti e questo ci permette di poter effettuare dei progetti e quindi toccare con mano, fare delle cose fattibile e operare nel territorio. Abbiamo iniziato con un semplice volontariato, sempre con i nostri anziani, con giovani e anziani per esserci questo interscambio. Abbiamo portato anche dei progetti a livello regionale che ci sono stati approvati, e questo ne vado fiera perché mi è congesso a me e tutti i nostri associati di rendere fattibile come l'ultimo progetto sulla digitalizzazione, dove grazie a questo progetto siamo entrati in merito con i nostri anziani nel nostro centro degli anziani, abbiamo portato i nostri benefici, c'è stato un interscambio notevole con i nostri giovani delle varie parrocchie e si è creato un bel momento. Ecco, Cristina, facciamo un salto indietro nel tempo. Perché nasce l'ADA e chi l'ha creata? Allora, l'ADA è una branca della UIL, quindi UIL pensionati, è nata grazie alla UIL dove naturalmente avevano bisogno, tra virgolette, un aiuto, un aiuto sostanziale con diverse parti del territorio, sia provinciale, regionale che nazionale, quindi hanno pensato bene di poter effettuare un associazionismo con chi è che aveva a disposizione e poter aiutare la UIL in questo campo. Ed è cresciuta sempre notevolmente, questo è stato molto importante perché ci ha permesso di poter arrivare dovunque e comunque, perché siamo morti in tutta Italia, è l'ADA presente. Ecco, tu prima hai detto che adesso con i vari progetti, adesso si sta parlando di digitalizzazione, come dicevi prima, ecco, ma il lavoro che fa l'ADA principalmente qual è? Il lavoro è quello di accompagnare, andando il nostro anziano in diversi percorsi, io chiamo della vita perché naturalmente ci permette di poter stare vicino a loro, sia nel campo, come dicevo poc'anzi, sia a livello burocratico, perché anche a livello burocratico noi sappiamo bene che i nostri anziani con la burocrazia che c'è adesso non sempre vengono accompagnati o hanno la possibilità di avere qualcuno a caso che l'accompagna, quindi li guidiamo su tutti i fronti. Le faccio un esempio molto pratico, a livello burocratico può essere anche l'accompagnamento, se l'anziano ha un'invalidità, può essere anche la 104, come può essere anche andare a comprare la semplice medicina, che non hanno la possibilità, noi abbiamo diversi associati, diversi volontari, che si occupano anche di questo, di andare a fare la spesa, di comprare le medicine, e come si occupano pure di altro. A tal proposito... Ecco, come ci si arriva ad avere questi servizi? Un anziano magari solo, che non conosce, è un'associazione? Sì, è un'associazione. Ecco, che non conosce l'associazione, come fa a rivolgersi a voi? Abbiamo due punti, uno è al comune, quindi nel nostro comune in via Cavaliere Vittorio, dove è Vittorio Veneto, dove c'è uno sportello aperto, grazie alla sinergia anche del nostro sindaco Leonardo Burgio, che ci ha permesso di darci una stanza e poter far fronte anche alle diverse risposte dello sportello socioassistenziale, e l'altro, naturalmente, come sportello funziona sempre a Serie di Falco, in via, sempre nel nostro, diciamo, come sportello assistenziale, a Serie di Falco, dove c'è la Will. Quindi nel sabato è solo disponibile io, se c'è qualcuno che non ci sono io, c'è sempre qualche associato a qualcuno, che è disponibile dalle 15 alle 20, quindi siamo qua a vostra completa disposizione. Sarebbe la Will di Corso Caribaldi, per essere più precisi. A Calterissetta c'è anche un altro sportello aperto, che è in via Colaianni, 88 a Calterissetta. Ecco, dicevamo appunto, stavi dicendo dei servizi che offrite, di questi progetti che stanno andando avanti, parlavi di digitalizzazione, ma penso che... Non solo. Ecco, cosa puoi dire in merito? Allora, non solo digitalizzazione, intanto stiamo facendo molta prevenzione, abbiamo iniziato con la prevenzione diabetologica, abbiamo fatto anche una prevenzione per quanto riguarda la cardiologia, dove già preannuncio che giorno 19 marzo verrà il nostro cardiologo che ci segue in tutta la prevenzione, che è Calogero Geraci, c'è la prevenzione e questo vi invito tutti a venire per quanto riguarda pure la diabete, quindi faremo un altro. Abbiamo fatto questa settimana pure lo screening per quanto riguarda l'Alzheimer, dove è venuto un nostro neuropsichiatra e farà dei test per quanto riguarda appunto gli screening dell'Alzheimer giorno 14 marzo al centro diurno della Santa Rita, quindi questo lo preannuncio, quindi si fa molta prevenzione e dico io è sempre importante perché molti di noi sconosciamo che cosa significa fare prevenzione. Ecco, prima di inizio ho accennato ai fattacci che spesso, purtroppo dobbiamo sottolineare questa parola spesso perché sta succedendo di continuo, possiamo dire, un po' in tutta Italia. Noi ne abbiamo avuto dei casi nella stessa sala di Falco, qualche settimana fa anche a Caltanissetta, dove chi dovrebbe prendersi cura dei nostri nonni, dei nostri vecchietti, poi va a finire che spesso vengono veramente trattati in maniera disumana. Qui un tuo pensiero? Il mio pensiero naturalmente è quello che io intanto sono per le telecamere, quindi assolutamente, io lo dico sempre, lo sostengo, devono esserci le telecamere, perché una che lavora bene non ha nessuna paura di avere le telecamere. Poi c'è la propria coscienza che lì non possiamo fare assolutamente nulla, però io dico che deve esserci molta più vigilanza nelle strutture, quindi non essere soltanto, sappiamo, e ci dicono, deve esserci il vigilante che ci va o chi si occupa delle varie strutture una volta al mese, una volta... No, deve esserci un gruppo, anche di volontari, che va a incontrare gli anziani, parli con gli anziani, perché vi assicuro che io, che faccio da un po' questo associazionismo, questo lavoro, gli anziani con il tempo riescono a dire tutto ciò che hanno da dire, buttano fuori tutto quello che hanno da buttare fuori. Molte volte mi sono ripresa e battuta anche sul discorso che molti anziani vengono parcheggiati senza fare un percorso antipaterizzato, senza fare un percorso adeguato a ognuno di loro, perché non è vero che chi è all'Alzheimer deve essere, deve fare le stesse cose, le stesse attività di un anziano che sta bene, ha solo un problema fisico. Anche lì io mi sono combattuto e ho chiesto per ogni struttura di avere un piano individualizzato, e non è vero che il malato di Alzheimer deve essere parcheggiato, perché è come andare in palestra, quindi l'esercizio mentale fa bene, e la prevenzione è anche questo, l'esercizio mentale. Sicuramente, sicuramente. Per esempio non si potrebbe, tu hai detto dei volontari, ma anche gli stessi parenti potrebbero far sì che magari a turno potrebbero stare. Assolutamente sì, però purtroppo molte volte i parenti portano i propri anziani nelle strutture, perché non hanno tempo, lavorano, per cui chi è disponibile e si crea una sorta di rete, è bello anche avere altra gente e confrontarsi con altra gente, perché molte volte l'anziano che si ritrova in una struttura non parla con i propri familiari, perché ha paura di dare un dispiagero, perché ha paura di, tra virgolette, di essere un peso, invece magari con uno estraneo si trova meglio a parlare, dipende dai punti di vista. Certo, certo. Ecco, sul tema Ada, hai da aggiungere qualcosa? Ho da aggiungere che spero che cresca sempre di più, che diventa sempre una cosa importante, che crei rete, soprattutto che crei rete con le altre associazioni. Devo dire che il nostro comune lo sto facendo bene, perché noi siamo diversa associazione, dove stiamo creando rete, grazie al nostro assessore Rosanzalaco, grazie al nostro sindaco, e questo è un buon punto di partenza. Spero che questa cosa cresca e che vada avanti. Ma se magari qualcuno vorrebbe farne parte come volontariato, cosa c'è da fare? Allora, basta solo farsi una semplice tessera, io sono qua, io, Enza Di Fazio, Salvatore Gutilla, siamo qua a vostra completa disposizione per qualsiasi domanda, per qualsiasi bisogno che avete, non ci sono problemi. A noi fa solo piacere, perché più siamo, più possiamo fare delle belle cose, crescere insieme. Sicuramente, quindi nei casi patronato il corso per i baldi qui a Storifalco. Assolutamente. Ecco, allora, io sono venuto a sapere di recente che ultimamente hai ricevuto anche un altro incarico di una certa rilevanza, perché sei il referente del coordinamento parità di genere a livello regionale. Ne vuoi parlare? Sì, assolutamente sì, la ministra segretaria mi ha voluto nel suo coordinamento con lei, per me è stato un onore, perché non è stato altro che, per quello appunto già l'abbiamo accennato poc'anzi, la parità di genere non è soltanto la violenza sulle donne, di cui faccio anche parte del centro di Stolking e Galatea di Caltrain 7, mi onoro anche lì di collaborare con loro, fino a ieri abbiamo avuto, abbiamo diversi progetti da sviluppare insieme, però io dico che la parità di genere è dovunque, l'abbiamo accennato poc'anzi, per me è stato solo una continuità, perché mi permette questo di poter anche, tra virgolette, affrontare e discutere su alcune leggi, su alcune cose che faremo in seguito per quanto riguarda i nostri anziani, nelle case degli anziani, dove la violenza è sia a livello fisico, ma è anche a livello psicologico, non ce lo dimentichiamo. Ora stiamo facendo dei progetti insieme per andare nelle scuole, perché si inizia proprio da lì, si inizia andando dai genitori, io dico sempre, però stiamo facendo diversi progetti per andare nelle scuole, stiamo pensando anche di fare dei referenti per ogni territorio, dove noi facciamo dei corsi e possiamo così svilupparli nei nostri territori. È una cosa che a me mi onora far parte, perché dico sempre, nessuna cosa è in disparte, nell'ADA, nell'altro incarico che ho avuto, e si crea sempre una rete e più cose si possono fare, meno problematiche abbiamo, perché è vero, la nostra presenza è fondamentale. Ma l'unione fa la forza. L'unione fa la forza, sono anche contenta perché prima di parità di genere non se ne parlava, io sono un'impiegata telecom e ora ci fanno fare proprio i corsi specifichi per la parità di genere, quindi è un argomento dove è sempre più presente sia nelle aziende che dovunque. Io l'incarico l'ho avuto infatti a livello aziendale con la Wilcom, però lo portiamo dovunque, siamo presenti dovunque. Bene, quindi complimenti per questo nuovo incarico. Cristina, vuoi aggiungere qualcos'altro? No, io voglio solo aggiungere, spero che questo periodo un pochettino di transizione, perché io lo vedo come un periodo di transizione, si afferma sempre di più, è che siamo sempre collaborativi, sempre in rete, perché l'unione fa la forza. Io ringrazio Lillo, ringrazio te per avermi dato questa opportunità, perché anche questo è un momento di socializzazione e di comunicazione. Grazie Lillo. È stato un piacere ospitarti, qui la porta è sempre aperta per qualsiasi comunicato, qualsiasi notizie, qualsiasi evento da comunicare agli ascoltatori. Grazie ancora Cristina e a presto. Ciao.